Ciao amici benvenuti tutti in questo nuovo video io sono Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale e oggi sono qui a spiegarvi come trovare il menu segreto dello Sky Q Black quindi iniziamo subito se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale lasciare un like e caso mai qualche commento io cercherò di risponderti quindi iniziamo allora eccoci qua prima cosa da fare è staccare la corrente sul decoder Sky Q una volta staccata la corrente noi andiamo a premere un tastino che si trova proprio qui dietro ve lo faccio vedere qui questo è il tasto di reset dello Sky Q mettiamo prima la corrente e teniamo premuto questo tastino da questo tastino in pratica riusciremo ad entrare dentro il nostro menu segreto quindi adesso vi faccio vedere come si fa prepariamo mettiamo la corrente al decoder e facciamo partire il decoder vedete? ecco qui questo è il nostro menu segreto per resettare, ripristinare, cancellare tutte le impostazioni del nostro Sky Q Black come potete vedere potete fare un aggiornamento software un aggiornamento software di primo livello potrete cancellare direttamente la memoria potrete anche fare il ripristino di fabbrica il rollback e il riavvio del decoder tutto questo usando il tasto Sky e il tasto Home per scorrere il menu molto semplice e interattivo potrete fare tutte queste cose se avete problemi legati al vostro Sky Q fate prima questo se vedete che lo Sky Q non funziona allora ci sarà sicuramente qualche problema di harddisco o qualche problema interno del decoder quindi la cosa da fare è andare in un centro Sky e farvelo dare uno nuovo e niente per questo video è tutto vi volevo solo spiegare questo tipo di cose come ripristinarlo è molto semplice voi scorrete andate sul ripristino impostazioni di fabbrica premete il tastino Sky e questo vi riparte e poi inizia tutta la procedura nuova quindi se ti è piaciuto questo video lascia un like iscriviti al canale e ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti da Andrea Lanciotti il vostro tecnico digitale ciao ciao